Ciao a tutti, io sono Edilandrofilo, oggi video velocissimo, a bassissima risoluzione così ve lo carico quasi in tempo reale rispetto alla registrazione. Ho comprato il nuovo Oldboy, finalmente è arrivato anche da me, ma ho bisogno di un consiglio. Vedete quanti albi ho ormai qua nella mia libreria, ecco. Mi sapete consigliare dove trovare quelle copertine trasparenti per infilarceli dentro? Perché ho paura che col passare del tempo si possano rovinare. Adesso sono già passate dal 2011 che li colleziono, alcuni sono più recenti, alcuni più vecchi, però ci tenevo a conservarli un attimino meglio. Magari mettetemi il link qui sotto nei commenti, poi non preoccupatevi se il commento sparerà perché di solito quando mettete dei link il commento finisce in revisione per spam, ma dopo io li approvo e quindi farò comparire i vostri commenti e li leggerò comunque. Quindi consigliatemi, se conoscete qualcuno anche che vende le copertine anche su Amazon, Ebay, quei siti lì, fatemi sapere. Grazie, ciao.